Halloween è alle porte e dopo gli episodi di vandalismo che lo scorso anno hanno fatto vivere una vera e propria serata d'orrore ai residenti di Sant'Orso, a causa di scorribande di giovani che hanno messo a ferro e fuoco la zona, quest'anno il quartiere fanese non si farà trovare impreparato. Non rispondiamo agli avvenimenti dello scorso anno con autorità, ma coinvolgendo i giovani, ha affermato il sindaco Seri. Il 31 ottobre infatti è in programma una serie di iniziative racchiuse nell'evento Bella Storia, Halloween a lieto fine, che animeranno Sant'Orso per trasformare il 31 ottobre in una festa e non in un incubo per i residenti. Il quartiere di Sant'Orso è pronto a scrivere una bella storia, una storia che arriva da un progetto che nasce da mesi fa, un progetto che abbiamo lavorato assieme all'oratorio, all'azione cattolica e anche all'associazione di quartiere e via via ci siamo invece portati con noi tante altre persone, associazioni sportive, associazioni culturali, ma anche diverse parti di questo proprio territorio, di questo quartiere, dai negozi che si sono messi a disposizione per laboratori, al Clebanziani, l'ambito sociale, il Gas Gas, l'unità di strada, il Paese dei Balocchi e tante altre società che naturalmente hanno aderito al programma, un programma che è il frutto di una comunità educante, è una comunità che educa, che sospende il giudizio e che sicuramente vuole far feste insieme. È un progetto che è stato naturalmente curato dall'assessore a Cucchiarini per quanto riguarda la sicurezza che ha messo in piedi attraverso la polizia locale, la prefettura si è mossa, la protezione civile sarà qui presente con otto persone che sia per quanto riguarda l'antincendio ma anche per quanto riguarda il presidio dell'area. Il valore importante che ha dal punto di vista sociale perché è questo evento il frutto di un lavoro tenace anche se magari poco appariscente, un lavoro di prevenzione che coinvolge tante realtà e che anche dal punto di vista del servizio sociale riesce poi a portare, a dare come riscontro un evento in cui davvero i ragazzi, i giovani siano coinvolti, siano protagonisti e siano anche più responsabili. Più sicurezza e anche più divertimento. Il 31 ottobre Sant'Orso si animerà a partire dalle 15.30 fino alle 23 con una serie di iniziative. Nel pomeriggio i più piccoli potranno divertirsi tra giochi e laboratori per la creazione di maschere e costumi. Ampia scelta anche per i ragazzi per cui sono previste numerose attività tra cui ballare o fare sport. Dalle 20 poi si accenderà la musica con il Bella Live Music, mentre alle 21 è previsto l'incontro con il giornalista Luca Pagliari. In programma anche una caccia al tesoro per coinvolgere a pieno tutto il quartiere di Sant'Orso. Tutti i dettagli su iniziative d'orari sono disponibili sulla pagina Facebook dell'Azione Cattolica Sant'Orso. Come parrocchie, in modo particolare come Azione Cattolica e anche come oratorio parrocchiale, quando sono successi i fatti ci siamo interrogati cosa potevamo fare noi per i ragazzi e i giovani, che in parte erano anche i nostri, quelli che frequentano le attività che proponiamo tutto l'anno. E ci siamo chiesti come intervenire. Abbiamo deciso di creare questa iniziativa insieme, perché crediamo che solo insieme si possono portare avanti delle belle storie. Abbiamo subito trovato l'accordo, un confronto per cercare di coinvolgerli fin da bambini, perché bisogna far capire fin da bambini che il civismo, il quartiere in cui abitano è casa loro, perciò comportandosi bene si cresce meglio e si viverà ancora meglio. Perciò tutti uniti, fin dai piccoli, per i più grandi, per tutto il quartiere, l'associazionismo collaborerà per creare questa bella storia dalle ceneri della brutta storia dell'anno passato. Grazie a tutti.